Il programma adesso no, si aspettano le due puntate che ormai mi sembra una favola. Da Roma dicono non c'è problema, gli enti pubblici, ieri siamo sentiti pure con Luca e mi hanno detto ma forse è meglio di no, lo sai, per un rispetto di Serone. Carlo Degli Esposti dice anche un rispetto per realizzare le due puntate, per chiudere il ciclo, per tutti diciamo che è finito. Però dai vertici dice no, le altre due puntate per rispetto si dovrebbero fare. Allora, dovrebbero, è il punto di errore che non si sa. Noi diciamo che tra Serone è andato via, Marcello è andato via, Roberto Nobile è andato via, Camilleri è andato via, Ricciere è andato via, personaggi proprio del look della serie ormai. Secondo me è un capitolo chiuso però da ricordare. E poi da cosa, mai dire mai, non lo so.